il bull market delle cripto valute il bull market di bitcoin è finito ragazzi mi state sobbissando di questa domanda nei commenti nelle mail moltissimi si fanno questa domanda allora ho fatto decine di video già sull'argomento dove vi ho spiegato un po quello che penso quello che è la mia idea generale sui mercati delle cripto poi ovviamente ragazzi nessuno alla palla di vetro questo ormai lo sapete quindi bisogna vedere se il mercato rispetterà quella visione però ci ho pensato un po e ho detto che facciamo un video dove vado a spiegare quello che è un indicatore che si può guardare che un indicatore è estremamente importante per capire se un mercato in questo caso bitcoin può aver finito la sua fase di bull oppure no almeno finita in parte quindi oggi andiamo a fare un video dove ci focalizziamo su quale indicatore andare a utilizzare per fare queste analisi e poi andiamo ad accostare ancora a questo indicatore ovviamente dei consigli da bon trader di famiglia diciamo così ok perché guardando soltanto gli indicatori come sempre è vero che si semplifica il lavoro però è anche vero che forse si semplifica un po troppo quindi bisogna un po aggiungere quelle che sono un po di sale un po di pepe un po di condimenti a questa idea ma prima di andare ragazzi io come sempre vi chiedo di iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto e ovviamente succo i pollicioni così mi date una mano con youtube come sempre ormai questa frase è diventata è diventato un must allora ragazze ok allora intanto mentre io sistemo il grafico che è già qui volevo anche accennarvi a un paio di questioni allora dividiamo quello che il concetto di breve periodo da quello che il concetto di lungo periodo ragazzi nel breve periodo il mercato delle cripto soprattutto bitcoin rispetto le altcoin perché le altcoin stanno performando meglio di bitcoin in questo momento soprattutto e th bitcoin sta soffrendo nel breve medio periodo questa cosa è evidente da un punto di vista di oscillazione dei prezzi abbiamo fatto uno dei peggiori mesi della storia di delle cripto lo scorso maggio candela rossa bruttissima non il peggiore ma comunque il vicino al peggiore e abbiamo fatto un'analisi sul video di lunedì dove vi spiegavo che la candela in questione una candela che tutto sommato non è bruttissima perché non è proprio un engulfing per una serie di motivi andatevi a vedere il video ciclico di lunedì però bisogna distinguere quello che è il concetto del bull market che è un qualcosa che dura ragazzi anche oltre l'anno due anni almeno da quello che è una questione di breve periodo quindi dovete scendere la analisi dei grafici e la vostra e il vostro atteggiamento il vostro investimento in investimento di breve quindi da qui ai prossimi due tre mesi investimento di medio da qui ai prossimi tre mesi investimento di lungo da qui ai prossimi 25 anni ok sono cose diverse oggi andiamo a capire se il mercato se bitcoin con i ribassi che ha avuto nelle scorse settimane è andato ad intaccare quello che il concetto del mercato di bull run che può essere dimostrato può essere sintetizzato dagli indicatori di medie utilizzando alcuni particolari trucchetti alcuni particolari periodi relativi appunto alle medie mobili andiamo quindi a vedere questo grafico nell'ottica del lungo periodo ragazzi ok quindi ricordatevi questa differenza intanto il tweet non si e non ho questo ragazzi oggi per chi di voi vedrà questo video fra un mese il tit il tweet di non porta sempre scompio ragazzi io sono favorevole alla presenza di interruzioni alla grandezza delle cripto chiamiamole così un giorno farò un video una live dove parleremo di queste cose perché più intoppi ci sono sulla nostra pista sulla nostra strada che andiamo a percorrere più persone soprattutto imponenti come il masch mettono i loro bastoni fra le ruote più il mercato diventa resiliente forte e forte per il futuro se ce la farà ok ragazzi che io sono un po così qua comunque questa no ne parliamo oggi ne parleremo un'altra volta allora per quanto riguarda la analisi intanto questo è un grafico che utilizzo il brave new coin liquid index for btc perché è lungo quindi ha tantissima struttura e lunghezza di periodo allora ragazzi facciamo così io vi spiego questa semplicissimo metodo per andarvi a calcolare se il mercato è nel lungo periodo in bull run si burrano andatevi a guardare questo indicatore lo guardate e vi date la vostra risposta che mi chiedete ogni volta che se a me non dispiace rispondere però questo è un bel metodo per capire se siamo no in burrana attenzione qui lo dico e lo sottolineo ciò evidenziatore allora non è un modo per operare sui mercati capire se siamo in burrano o meno ragazzi non vi da lo strumento operativo vi fa semplicemente capire dove siamo in che via siamo va bene per operare poi bisogna utilizzare dei time frame più brevi delle analisi di altro tipo delle strategie di investimento come il piano d'accumulo delle strategie di trading per i più scalmanati quelli che diciamo vogliono approfondire diventare professionisti ok non c'è altro modo però questa indicazione questi indicatori vi danno l'idea generale per rispondere se effettivamente qualcuno di voi ha paura che magari il burrano la burrano di bitcoin sia terminata quindi abbiamo bisogno di un indicatore oggettivo utilizzando le medie mobili riusciamo a comprendere questa cosa ma solo se andiamo ad utilizzare dei time frame che sono alti quindi almeno il time frame weekly che è il mio preferito per fare questo tipo di analisi quindi vi mettete il time frame weekly su trading view dopodiché vi andate a costruire due medie mobili semplici non servono medie mobili esponenziale la ema la tema la tema ragazzi è la stessa cosa soprattutto le medie mobili esponenziali sono più utili da utilizzare per una questione di velocità di operatività quando invece andiamo ad analizzare quello che è un trend di lunghissimo periodo non per avere un'indicazione operativa ma per capire dove siamo è meglio utilizzare le medie mobili semplici perché sono più lente ma anche meno rumorose delle altre quindi fanno meno errori siccome in questo caso non ci serve velocità perché non stiamo andando a operare non utilizziamo questo modo per agire sul mercato allora utilizziamo la media mobile semplice quello che è importante in questi fasi è andare a definire bene il periodo delle medie infatti queste le ho cambiate rispetto al mio solito perché se io voglio andare ad analizzare quello che è una bull run del mercato devo analizzare il ciclo annuale del mercato ragazzi ok il ciclo annuale corrisponde ad una fase della bull run di un mercato in questo caso il mercato cripto solitamente il mercato cripto in una bull run fa tre cicli annuali va bene ragazzi ok questo allora come ve lo faccio a livello di spiegazione ok allora vi faccio vedere quello che il precedente la precedente struttura ragazzi dal 2000 la migliore devo dire la verità dei mercati cripto dal 2000 generale 2015 dicembre 2018 la vediamo qui molto ben impostata allora questi sono tre cicli annuali a rialzo e poi quello ribassista che è andato a chiudere il la struttura quindi ragazzi in una bull run come una bull run di questo tipo il mercato bitcoin ci disegna almeno tre cicli annuali che tendenzialmente sono rialzisti per poi chiudere con il quarto in questo caso li vedete abbastanza anzi ve li disegno proprio in maniera abbastanza evidente allora questo è una prima struttura di un ciclo più o meno annuale vedete ragazzi poi ne abbiamo un altro che è più o meno sempre intorno ai 365 450 giorni quindi intorno alla solita cifra questo è l'ultimo quello della bull e questo è quello finale che ha chiuso la struttura dei cicli annuali il finale più corto ci sta perché semplicemente è un ciclo ribassista i cicli ribassisti sono più corti allora in una bull run il mercato disegna almeno tre annuali ragazzi ok e poi probabilmente ne fa uno al ribasso in questo caso quale indicatore vedete le due medie come hanno dipinto la fase della bull run l'incrocio di queste due medie mobili indica che la bull run è iniziata cioè che la struttura ciclica di lungo periodo è stata impostata al rialzo per le prossime per i prossimi mesi va bene quali sono i periodi di queste due medie ve li faccio vedere molto velocemente 52 e 26 bava ma perché perché sono le medie mobili per un anno 52 settimane ecco perché impostato alle settimane se voi non passate sul time frame daily non ha senso utilizzare queste medie mobili quindi i periodi delle medie dovete impostare in base a quelle che volete vedere in questo caso la media mobile a 52 è l'indicatore più importante per capire se siamo in burran si burra no e soprattutto poi il media mobile più piccola quella 26 ci dà una prima fotografia di pericolo attention qualcosa non sta andando pericolo ok perché perché è la media mobile a 180 giorni cioè a metà anno e quella menzana che ci dà l'idea se è negli ultimi mesi il mercato si sta muovendo male o no quindi quando il mercato andrà a invertire la sua fase di burn an è la prima cosa che farà è andrà a rompere la media a 26 periodi indicando appunto che c'è molta difficoltà allora fin tanto che il mercato resta al di sopra della media mobile arancione che vedete giallino arancione noi siamo ancora in burran ma quando il mercato scende al di sotto della blu dell'azzurrina allora il mercato è in pericolo quindi tutto il ciclo burran diventa un ciclo e in pericolo ragazzi ok ma quando può quindi diciamo facciamo così ok se non vi confondo poi alla fine del video video però la chicca di lettura quella che vi ho promesso come leggere effettivamente accostando magari un po di ciclica a questa informazione se volete sapere se siamo o meno in burran andiamo a vedere il mercato qui ragazzi è settimanale il mercato oggi sta scendendo ma il liquid index for btc si aggiorna domani perché non è in real time allora quindi questa candela è leggermente schiacciata perché ora siamo a 36 9 ma non cambia perché una candela settimanale quindi non è importante questa è la media mobile a 52 settimane il mercato in burran ha diciamo iniziato la sua fase e lo scorso 19 maggio vedete facendo il break è da qui che è iniziata questa fase di burran ragazzi non dal covid la caffa la fase di burran iniziata da qui dal 19 maggio poi lo scorso anno in questa fase molti voi si ricordano sul mio canale noi chiamavamo l'inizio del nuovo ciclo annuale che poi ovviamente è stato chiuso a marzo durante il covid ma qui il mercato era già pronta a risalire probabilmente non ci fosse stato il covid avremmo assistito a questa continuazione all'interno e sopra soprattutto la media mobile che vi sto dicendo quindi avremmo assistito a una cosa del genere non saremmo mai andati a finire qui sotto ok questo è stato il classico diciamo evento straordinario cigno nero che ha provocato questo break tant'è vero che il mercato l'ha recuperato in due mesi immediatamente ha recuperato i livelli precedenti perché poi a maggio era ritornato qui ma nel momento in cui tralascendo questo evento che è un evento covid ed è un evento estremamente raro quindi cigno nero potremmo chiamarlo così in tutti gli altri casi il mercato quando fa la sua burran resta al di sopra della media 52 o la tocca la rompe di poco quando va a fare la chiusura del ciclo annuale questo è giusto perché quando il mercato va a chiudere un ciclo annuale può andare a intaccare la sua media annuale e anche romperla un po al ribasso questo non significa che la burran è terminata ma che sta chiudendo il ciclo annuale la cosa è abbastanza evidente perché infatti qui abbiamo fatto la primavera candela di ribasso di bitcoin che è quella del 17 maggio con il meno 25 famosissimo ormai che ha rotto la media mobile del dei 26 periodi quella del semestrale rompendo questa media mobile a 26 periodi porta l'intero mercato in fase di chiusura annuale e dopodiché si posiziona dentro queste due medie e cerca di resistere perché qui abbiamo la 52 è possibile che il mercato vada a rompere anche la 52 tecnicamente sì se ci fa un nuovo mensile ribassista a giugno e quindi va a fare in pratica una cosa di questo tipo e chiude definitivamente l'annuale con una specie di doppio minimo è un test della media mobile a 52 settimane quella dell'annuale dopodiché dovrà dare risposte se il terzo ciclo annuale di questa fase di burran può ancora dare i nuovi massimi ok è facilissimo da andare a vedere perché perché dovremmo avere intanto questa ipotizzando che è stato chiuso qui poi dobbiamo avere una nuova struttura annuale che tecnicamente potrebbe essere più o meno di questa dimensione potrebbe tentare di portare bitcoin ai famosi massimi storici prima di andare a chiudere tutta la struttura dei poi con il quarto ciclo annuale che tendenzialmente va a chiudere la burran al momento quindi essendo il mercato sopra la media mobile a 52 da un punto di vista di breve periodo trend ribassista medio periodo laterale ribassista ma lungo periodo è ancora in burran perché come vedete in maniera abbastanza chiara vi tolgo anche le indicazioni dei dei tempi in questa zona il mercato continua ad essere definito un mercato in bull run soltanto un break della media 52 non entro pochi giorni ma fra un mesetto indicherebbe che questa fase di burran diventa debole e a quel punto è un problema vero vi faccio anche vedere quello che intendo guardate qui quando è il mercato ha chiuso l'ultimo ciclo annuale ribassista che abbiamo visto che è questo perché questo è un ciclo annuale ribassista iniziato a gennaio del 2018 terminato a dicembre 2018 ha fatto la sua parte up ovviamente non ha rotto la media a 52 settimane dopodiché la il ciclo annuale si è indebolito pesantemente qui nella fase di asista non ce l'ha fatta quindi il mercato era debole perché veniva da tre annuali rialzisti al break di questa media che vedete è stata fatto qui in questa candela il mercato inverte la bull run da qui il mercato nel 2018 entra in fase di mercato ribassista ufficiale poi come vi ho spiegato è difficile tecnicamente andare a utilizzare questa indicazione perché perché il mercato era già distante anni luce dai massimi questo è un altro discorso è un problema legato al trading e all'investimento però se volete capire come si fa a vedere se il mercato è ancora in bull run guardate la media a 52 e fate queste generalizzazioni che vi ho spiegato ragazzi ok cosa ne pensate siamo ancora in bull run siamo in chiusura del ciclo annuale e ci sta ma i prossimi mesi sono stradelicati io mi sono tenuto la finestra nelle prima decade di giugno per vedere che cosa faceva il mercato proprio per la paura di questo momento è veramente un momento complesso ma è anche un momento dove si fa la differenza e queste informazioni sono oro colato va bene ragazzi allora fatemi sapere cosa ne pensate scrivetemi nei commenti e come sempre noi ci rivediamo nel prossimo video ciao a tutti non sei chiusa vabbè allora di nuovo lo rifaccio di nuovo ciao a tutti